C'è chi un giorno invece ha sofferto, e allora ha detto io parto, ma dove vado se parto, sempre ammesso che parto. E la vita l'è vera, l'è vera, a scopere l'ombrea, l'ombrea, ti ripara la testa, sempre un giorno di festa, ciao! Gentile pubblico di Onda TV, buonasera, con la celebre canzone di Cocchi e Renato inauguriamo questa nuova trasmissione del nostro palinzesto di Onda TV dal titolo Vivere la vita. Di settimana in settimana e volta per volta vi racconteremo i modi di vivere la vita di persone che non sono molto note dal punto di vista mediatico, per questo noi vogliamo dargli la possibilità e l'opportunità di esprimersi e di emergere. Frammenti di storie quotidiane, primo ospite in questa prima puntata di Vivere la vita, Silvio Formichetti. Buonasera Silvio. Buonasera. Silvio è un pittore di Prato la Peligna, possiamo dire che ha fatto della sua vita un dipinto e un quadro, certamente avrà sfruttato anche i talenti ricevuti in dono, le sue inclinazioni naturali, ma torniamo indietro nel tempo. Com'è nata l'idea di dipingere Silvio? Ci racconti un po' della sua storia. Non è che sia nata l'idea di fare l'artista. L'artista, uno è artista, ognuno di noi è artista di per sé, quindi poi bisogna avere il coraggio per esprimersi, per denunciarlo questo. Quindi io ho sempre dipinto da ragazzo, da adolescente, da bambino, poi con gli anni, avendo fatto una serie di esperienze anche lavorative, ho sempre mantenuto una costanza, una coerenza nel portare avanti il mio concetto d'arte, la mia ricerca. E fino a quando appunto è diventata l'unica e vera professione che tuttora insomma mi vede impegnato in mostre internazionali, premi internazionali, riconoscimenti, quale come la Biennale di Venezia. E appunto insomma oggi è la mia unica attività, la mia attività principale, non c'è altro. Questo almeno da circa dieci anni. Bene, sicuramente nell'esercizio di questo talento e dell'arte molto si deve sfruttare l'estro, la creatività e la fantasia, giusto Silvio? Assolutamente, un artista è uno che crea, quindi deve avere una motivazione per esprimersi. Nel mio caso c'è un discorso molto intimista, molto personale, quindi io nasco come pittore figurativo, quindi la classica figura del soggetto oppure di un paesaggio. Poi oggi sono invece un artista informale, gestuale con l'esattezza. Non è una pittura, un'espressione che mi sono inventato io, è un'espressione che ormai dura da una settantina di anni. Quindi ricordiamo i vari artisti come Pollock, Klein, per poi arrivare ai nostri europei, italiani, a cui anche io ho avuto come modello di interpretazione, di ispirazione. Noi sappiamo che laddove c'è la passione c'è tutto, quindi probabilmente la grinta, la determinazione, lo zelo, la dedizione per quello che lei fa, Silvio, avrà contribuito alla sua piena realizzazione e soddisfazione nell'arco e nel corso della sua vita. Però certamente la passione non esclude anche la difficoltà e il superamento dei taloni ostacoli. Ci sono stati, in quest'ambito, in questo caso... Assolutamente, non è che ci sono stati, ci sono, gli ostacoli ci sono sempre. Quindi, anche perché voglio precisare una cosa, con tutto il rispetto per ogni artista, per tutti gli artisti, ma io vivo di arte, quindi sono un artista, sono un professionista. Non sono il pittore della domenica che fa il suo quadro, oppure si esprime per conto suo e poi vende le sue opere ed è giusto che sia così. Quindi, però, dietro al discorso di essere artista, c'è tutta una situazione che il pittore che ha le prime armi, o il pittore che ha esposto solo in mostre locali, non neanche si immagina, neanche sa quello che cosa vuol dire. Cioè, organizzare una mostra in un luogo importante, con un catalogo importante, con un ufficio stampa importante, se non hai a disposizione uno sponsor che ti finanzia con una somma importante, tu la mostra non la fai. La fai, resta una mostra locale dove tu vai, metti i tuoi quadri, appendi i tuoi quadri e tutto finisce là. Faccio un esempio, sto lavorando per un progetto 2014, il 22 marzo inauguro ad Abu Dhabi una personale. Il 15 luglio inauguro una mostra all'Aurum di Pescara con Luca Beatrice. Ricordo che Luca Beatrice già curò la mia esposizione con Mario Schifano, sempre a Pescara nel 2010, una mostra a confronto, ed è stato il curatore della 52esima biennale di Venezia, quella del 2009. Solo l'allestimento per questa mostra, perché è una mostra legata che parla dell'inferno dantesco, è un allestimento dove è dovuto intervenire uno studio di architettura, e quindi posso lasciarti immaginare i problemi e gli ostacoli che troveremo solo per il recupero del materiale. Quindi le mostre sono anche immagine di quello che uno sta facendo, di chi è l'artista. Un allestimento in una mostra è anche molto importante. E questo è uno dei tanti ostacoli, poi ci sono gli ostacoli del commercio, quindi se non hai il mercante dietro, il gallerista dietro o il singolo collezionista, è quello diciamo che è l'ostacolo principale per la sopravvivenza personale, visto che comunque io vivo di questo lavoro con la mia famiglia, quindi ho moglie e quattro figli, lascio a te immaginare dell'impegno che devo impiegare per far sì che il mio lavoro abbia una dignità anche sotto il profilo economico. Economico e di sopravvivenza e di mandamento della famiglia. Bene che questo emerga, quella di Silvio non è solo una passione, ma Silvio ha fatto della sua passione un lavoro e una professione, certamente ovviamente stimolato dalla creatività, dalla fantasia, dall'estero come dicevamo poc'anni. Io devo comunque sottolineare una cosa, io devo tutto alla mia prima partecipazione nel 1999, perché poi si è ripetuta per altre due edizioni, del premio Sulmona. Il premio Sulmona all'epoca era un premio molto molto importante, ricordo che fu curato all'epoca da Carlo Fabrizio Carli, che solitamente c'è sempre, e c'era la mostra omaggio ad Alberto Sughi, quindi all'epoca il premio era un premio internazionale, facevano un catalogo importante, facevano gli omaggi importanti, c'erano premio in danaro importanti, è stato insomma il periodo importante di questo premio. Io da lì questo non l'ho mai negato e continuerò sempre a dirlo, perché grazie alla sensibilità dell'artista Gaetano Pallozzi, che è stato l'inventore di questo premio, io ho potuto realizzare questa sorta di cisono, che comunque portavo dentro da tempo, perché ognuno vorrebbe fare quello che vuole, soprattutto nelle arti o nello sport. Sì, e quindi siamo contenti che poi questo sogno si è espresso, si è realizzato in quanto tale, con le dovute difficoltà che poc'anzi Silvio menzionava, sotto tutti i punti di vista, perché ovviamente fare della passione un lavoro comporta, specialmente in questo periodo particolare, che stiamo attraversando nella nostra Valle Prigna, nel nostro territorio, dei disagi in tal senso. Ora è dimostrato, provato scientificamente, che dopo molti minuti di ascolto scende l'attenzione, quindi non vogliamo annoiare il pubblico da casa, però dobbiamo concludere questa prima puntata della nostra trasmissione, mostrando ai nostri amici telespettatori il frutto, il risultato di alcune opere che Silvio ha realizzato nel corso di questi anni. Magari chiedo alla regia di mandarle in sovraimpressione, Ecco, Silvio, le chiediamo una brevissima presentazione in merito alle opere che poc'anzi menzionava. Allora, questa, come dicevo poc'anzi, è pittura gestuale, la pittura gestuale nasce da un'esigenza viscerale che l'artista, cioè colui che crea, ha per forza urgenza di mostrarla, di sensibilizzare il fruitore, ovviamente. Qui pittura gestuale vuol dire che è una pittura dell'anima, quindi fuori da informale, questo appartiene al filone informale, fuori da ogni forma, ma non è che uno va lì e si mette a buttare il colore, come in certe pubblicità televisive fanno vedere gente che riempie palloncini di colore. Non è arte. No, non è arte, è un'offesa all'arte, perché questa pittura nasce, perché uno rifiuta il manierismo, quindi io rifiuto di disegnare sempre quel paesaggio, rifiuto di disegnare sempre quel bicchiere, sempre quella donna nuda, ho delle esigenze diverse, capito? Quindi faccio parlare un dialogo personale mio, con il mio io, è un dialogo che poi si proietta, cioè va alla ricerca di tante situazioni, che possono essere religiose, politiche, ambientali, quello che sia. La parte mia no, la parte mia c'è la ricerca del mio profondo, dell'io, manifestandolo poi in questo modo, con la classica pittura informale. La pittura informale nasce, è arrivata in Italia subito dopo la seconda guerra mondiale, quindi perché è arrivata subito dopo la seconda guerra mondiale? Perché nel modello artistico italiano, europeo, c'erano gli Stati Uniti, c'era l'America, che già si esprimeva in questo modo. Loro avevano la motivazione dell'avanguardia, dell'innovazione. Dal punto di vista nostro, di casa nostra, il primo movimento fu, che era un movimento di corrente, fu inventato, fu creato da Leonello Venturi, che chiamò degli artisti, che si chiamavano il fronte nuovo delle arti, e questi li presentò alla prima biennale del dopoguerra del 48. Da lì poi, con Giulio Carlo Argan, nacquero il gruppo degli Otto, che era composto appunto da Afro, Vedova, Morlotti, però lì c'era la motivazione della denuncia, dell'urlo, perché venivano da quel periodo brutto, drammatico della guerra, e avevano questa motivazione di esprimersi in questo modo. Diversamente oggi è stato un po' più difficile, però va dato adito a me che dopo, va dato adito che io ho insistito nel riportare alla luce questo tipo di espressione, dove la gente non aveva il coraggio, e la testimonianza è stata la mia partecipazione al Padiglione Italia, suggerito da Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, appunto con un'opera in tal senso. Benissimo, allora noi ringraziamo Silvio Formichetti, anzitutto per aver accettato il nostro invito, con lei abbiamo inaugurato questa nuova trasmissione, ecco facciamo tanti auguri, un grande in bocca al lupo a Silvio e alla sua famiglia, per il loro cammino, per il loro futuro, e anzitutto per la loro vita, visto che parliamo di vita in questa trasmissione. Grazie, buonasera. Grazie a Silvio Formichetti, grazie al pubblico da casa che ci ha seguito con affetto e simpatia, appuntamento su Onda TV con Vivere la Vita, lunedì prossimo alle ore 22, viva la vita e buona serata a tutti. C'è chi un giorno invece ha sofferto e allora a vento io parto, ma dove vado se parto, sempre ammesco che parto. E la grigia la vita, e la vita l'è vera, l'è vera, a scopere l'oprera, l'oprera, ti ripara la testa, sempre un giorno di festa. Ciao!